Ben trovati telespedatori di Prima Free con il telegiornale di Padova e di Rovigo. In apertura abbiamo deciso quest'oggi di trovare una notizia che purtroppo coinvolge moltissime famiglie anche della provincia di Padova e non solo, ma comunque di questo nostro nord-est. Una notizia che purtroppo vede coinvolte sia le famiglie e soprattutto molti lavoratori perché la Mantovani ha deciso a quanto pare di tornare alla cassa integrazione. Ci sono a rischio circa 200 posti di lavoro. A quanto pare la crisi sta toccando i fondi dell'azienda importante che lavora in tutto il mondo. Ma sentiamo i servizi di apertura del telegiornale. La crisi dell'edilizia della Mantovani mette a rischio il posto di 202 lavoratori. 32 a tempo determinato i cui contratti non saranno rinnovati e 170 dipendenti per i quali l'azienda ha annunciato la procedura di mobilità e quindi licenziamento. I sindacati sono ora al lavoro per ottenere la proroga della cassa integrazione. Maurizio Boschiero, l'amministratore delegato del gruppo con sede legale a Mestre, lunedì ha comunicato gli esuberi ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria in un incontro avuto nella sede padovana del gruppo in Via Belgio. La situazione dell'azienda è critica. Dopo i lavori per la piattaforma all'Expo di Milano, gli unici cantieri aperti in Italia sono quelli del Mose e della fornitura di servizi degli ospedali di Mestre, Vicenza e Trento a Valle degli Interventi realizzati con il project financing. Nel corso dell'ultimo anno il fatturato è calato dal 70%, scendendo dai 450 del 2014 ai 180 del 2015. All'estero la Mantovani sta lavorando al porto di Acaba, unico sbocco sul mare della Giordania, dove ha vinto una commessa da 40 milioni e in Tanzania per la realizzazione di una strada, ma in entrambi i cantieri utilizza mano d'opera locale. In Italia il prossimo cantiere arriverà con l'inizio del 2017 al porto di Napoli, dove la Mantovani ha vinto un appalto di 12 milioni per lavori idraulici e al sistema fognario e per il quale è in attesa di firmare il contratto definitivo con l'autorità portuale. Stiamo cercando commesse ovunque il mercato le proponga, compreso il settore dell'alta velocità, spiega l'amministratore del gruppo, ma al momento la situazione è complicata, senza contare che quanto successo con lo scandalo del Mose non ci ha certo aiutato. È lo stesso contesto di un anno fa, quando la società, a causa del perdurare dello stato di crisi aziendale, avviò la cassa integrazione straordinaria per tutti i dipendenti. Lunedì, in vista del prossimo 25 ottobre, quando si concluderanno i 12 mesi di cassa integrazione straordinaria, la Mantovania ha quindi annunciato la procedura di mobilità per 170 dipendenti su 366. Sono 105 operai, 31 tecnici di cantiere, 4 dirigenti e 30 impiegati degli uffici amministrativo, tecnico e legale della sede di Padova. Ora la discussione si sposta al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, come concordato tra i rappresentanti della Filca Cisle e della Fillea CGL e Feneal Will, che hanno delegato alle segreterie nazionali la richiesta di un incontro al Ministero. Una partita che riguarda così tanti lavoratori, spiegano i rappresentanti sindacali, non può essere risolta in sede aziendale, ma necessita dell'interessamento del Governo. Dalla notizia che preoccupa a un'altra invece, decisamente, che renderà felici se non altro per onore e soprattutto per coloro che potranno rientrare in Italia, proprio così. Oltre al Made in Italy in avvigliamento, scarpe e accessori, il bel paese infatti esporta anche 3.000 ricercatori all'anno, cervelli che si dicono in fuga, tirati dai lidi a quanto pare più ammiccanti. Ma c'è anche chi, puttando sulla parola quasi dimenticata che è meritocrazia, trova le porte aperte e la strada spianata e decide quindi di fare inversione, prenotando il biglietto aereo per il ritorno, convintro, allegro e definitivo. E così a rientrare a Padova in questi giorni sono ben in 24, lo ha annunciato il magnifico rettore, Rosario Rizzutto, convocando per la prima volta gli stati generali della Università a Villa Revedin Bolasco di Castelfranco. Allora, si tratta di 20 italiani, 4 stranieri. 22 erano all'estero tra Olanda, Germania, Svizzera, Turchia, Pakistan, Australia, due lateneoli ascippati anche al CNR e all'Università di Bologna. Età media 42 anni, la carica di questi professori rimpatriati andrà ad arricchire le conoscenze in matematica, fisica, chimica, ingegneria, medicina, farmacologia, storia, antropologia, archeologia, lottologia e agraria. Insomma, un rientro di cervelli nel nostro paese. Complimenti. Andiamo a Pombino d'Ese, invece parliamo di un giovane che aveva filmato le colleghe alla toilette. Da lì erano scaturite appunto molte curiosità e soprattutto dei controlli da parte dei carabinieri che sono risaliti a questo giovane collega appunto in azienda della provincia di Treviso. Sentite che cosa è accaduto. Era l'operaio con la vescica più debole, sempre in bagno, più volte ogni ora, soprattutto dopo l'uscita dalla toilette di qualche collega donna. La forza dell'emulazione è capace di fare brutti scherzi? Niente affatto. Nel suo problema urologico, Claudio Basso, classe 1981, residente a Istrana, nel Trevisiano, dipendente di un'azienda a Pombino d'Ese, aveva piazzato una telecamera nella toilette riservata alle donne, occultandola all'interno di uno scopino proprio accanto al water, un punto di osservazione per sfregiare l'intimità di decine di colleghe che ignare andavano a fare i propri bisogni. E lui ogni volta che una donna usciva da quella stanza, di corsa si infilava, forse per scaricare in qualche file o che avete USB, la memoria dei filmati ripresi grazie alla mini telecamera. Per puro caso una dipendente si è accorta di quello che stava accadendo. Immediatamente è stata presentata una denuncia ai carabinieri di Piombino. Ora Claudio Basso si ritrova indagato per il reato disciplinato dell'articolo 615 del codice penale che punisce l'interferenza illecita nella vita privata. L'inchiesta è finita sul tavolo del pubblico ministero padovano Roberto Piccione. Il 12 settembre scorso, infatti, una collega di Basso è andata in bagno come si sa quante altre volte e ha notato quel filo che sbucava dallo scopino posto vicino alla tazza del water. Incuriosita, più che insospettita, ha allungato la mano per capire di che cosa si trattasse. Così, tirando verso di sé il filo, ha osservato con stupore che era collegato alla mini telecamera. Subito ha informato il vertice aziendale. La notizia è stata comunicata poi ai carabinieri che si sono attivati e chi poteva aver piazzato quell'occhio tecnologico per spiare le dipendenti. I sospetti sono concentrati su Basso, assiduo frequentatore dell'area toalette più di chiunque altro. Su ordine del pubblico ministero Piccione, i militari dell'arma si sono presentati a casa sua con un decreto di perquisizione valido anche come informazione di garanzia. E mentre hanno passato a setaccio l'abitazione, hanno sequestrato del materiale, un personal computer, una schedina di memoria, due hard disk, una confezione vuota per telecamera compatibile con quella sequestrata nella toaletta aziendale, il dipendente poi non si è trattenuto, ha ammesso poi la colpa. Ora il PM Piccione nominerà un esperto per analizzare il materiale informatico e per capire se l'operaio spione abbia agito soltanto nel periodo limitato tra il rientro delle ferie di agosto fino al 12 settembre. Resta un altro un punto interrogativo però, che fine hanno fatto quei video vigliacamente realizzati. Gli investigatori vogliono accertare se Basso li abbia divulgati in rete, a volte ricettacolo delle cose più immonde. Andiamo ora in provincia di Rovigo a Porto Viro per parlare di fusioni tra enti, e quello che un po' alla volta si sta notando sempre di più in Italia, se non altro per far fronte alle problematiche, soprattutto finanziarie. Da una parte allora c'è Adria, Porto Viro, Loreo, Porto Viro, scusate, più a sud, Taglio di Po, Ariano, Corbola e Porto Tolle, due dunque macro aree che consentirebbero di oltrepassare i confini territoriali, ottenendo quindi vantaggi in termini di servizi di minori spese e burocrazia. A tornare a far luce, lanciando un spunto di riflessione su questa questione delle fusioni, già dibattuta tra l'altro in passato, è il senatore di Forza Italia Bartolomeo Amidei. Il tema viene da lontano, considerato Amidei, ma si presenta più che mai attuale, visto che siamo tutti concordi, che 50 e più comuni in Polesine e oltre 8.000 in Italia sono troppi. Preso atto la fusione in sé è una soluzione, ma non la soluzione, dice, intesa come panacea di tutti i mari, l'unico rimedio per contenere i costi è snellire la macchina burocratica. Non posso nonché pensare guardandolo al nostro delta, è un disegno complessivo che rispetti storia, singola identità e contiguità geografica. Per questo motivo una grande macro area che inglobasse Portovir, Rosolina e Loreo, arrivando sino ad Adria, potrebbe rispondere alle esigenze di quella porzione di territorio. Quindi due ospedali, uno pubblico e uno privato, il parco, le spiagge di Rosolina Mare e la Romea, con le sue enormi potenzialità di collegamento e decine di attività artigiane e piccole industrie. Le possibilità di sviluppo futuro, unendo le forze, potrebbero, dice, essere davvero grandi. Le stesse caratteristiche culturali e territoriali potrebbero però dar vita anche all'ulteriore fusione del delta, ovvero Taglio di Poco, Nariano e Corbola potrebbero trovare continuità con Portotolle. Vedremo se da qui, da questo pensiero, si potrà emergere, potrà emergere magari qualcosa di più concreto. Torniamo a Padova, nella Padovana invece, a Gazzo Padovano, dove qui i finanzieri hanno scoperto una discarica abusiva. Tra l'altro a cielo aperto, lì sono intervenuti i finanzieri che hanno bloccato il tutto. Sentiamo. Una discarica a cielo aperto con 50 tonnellate di rifiuti. I militari della Guardia di Finanza di Padova, durante il servizio di controllo del territorio, hanno sequestrato nel comune di Gazzo Padovano un fondo di circa 5.000 metri quadrati, adibito a discarica abusiva, in uno stato di totale degrado, sul quale erano stati abbandonati in modo incontrollato rifiuti per circa 50 tonnellate, molti di quali pericolosi, materiali edili, lastre in fibrocemento, apparecchiature elettriche ed elettroniche, imballaggi di vario tipo e vecchi mezzi agricoli in disuso. Per questo motivo le fiamme gialle della compagnia di Cittadella, che si sono avalse anche di un tecnico specializzato nel settore ambientale, una volta circoscritta l'area sulla quale erano ammassati i rifiuti, percependo fin da subito il potenziale pericolo che poteva scaturire per le falde acquifere e l'ambiente circostante, hanno sottoposto a sequestro l'intero fondo e segnalato il proprietario del terreno, MZ, nonché titolare di un'azienda agricola, alla Procura della Repubblica di Padova per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. L'uomo è stato anche segnalato all'ARPAV di Padova per i necessari accertamenti di competenza, nonché al Comune di Gazzo Padovano, che potrà ora disporre la necessaria operazione per la rimozione, all'avvio però anche al recupero, allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi a cui il trasgressore è tenuto a procedere. L'attività di servizio nello specifico comparto testimonia ancora una volta l'attiva presenza della Guardia di Finanza sul territorio padovano e l'impegno profuso costantemente a tutela della salute dei cittadini. C'è il capogruppo dei Cinque Stelle in regione che ha beccato una multa, una multa salata a seguito di un autovelox. Da qui ha messo in discussione che quella strumentazione fosse regolare. Ha scritto davvero a tutti. L'ha scritto come cittadino, ribadisce, l'ha scritto anche come consigliere regionale con la carta intestata, evidentemente, della stessa regione. Da qui a Perticello, insomma, si cerca di capire se quello strumento è valido o meno. Nel frattempo il capogruppo dei Cinque Stelle in regione ribadisce. Toglietemi la multa. Cosa fa un normale cittadino quando prende la multa? Di norma la paga, può capitare che la contesti. Il cittadino Simone Scarabella ha fatto di più. Ha contestato il regolare funzionamento dell'autovelox che l'ha beccato mentre sfrecciava sulla Romea tra Rosara e Codevigo nel Padovano a 113 all'ora contro il limite di 90. Quindi ha chiesto che gli venga tolta la multa. E ha chiesto anche tutta la documentazione relativa all'autovelox, più una serie di documenti su infrazioni, numero di incidenti, progetti di fattibilità, tali da mettere al lavoro per una settimana intera gli uffici del comune. Occhio, per le due richieste toglietemi la multa e datemi le carte. Non ha utilizzato un normale foglio bianco. No, Simone Scarabella ha usato la carta intestata al gruppo consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, di cui a Palazzo Ferrofini è consigliere e da poco capogruppo. E quando dal comando della polizia locale è stato chiesto in quale veste agiva, se da normale cittadino o da politico, Scarabella non ha avuto problemi a rispondere entrambe le vesti. Al momento non è dato a sapere perché Scarabella abbia usato la carta intestata da politico per farsi annulare la multa. Contattato telefonicamente, il capogruppo dei grillini in regione ha risposto al gazzettino, salvo poi concordare con il comunicatore del gruppo, un post successivamente pubblicato su Facebook, da cui risulta una multa presa a codevigo il 7 luglio scorso e un ricorso presentato dall'avvocato Gino. Il cognome è stato cancellato da Scarabella per privacy al giudice di pace di Padova. Ammesso che si tratti della stessa multa e non di due differenti violazioni, peraltro sempre a codevigo, i ricorsi sarebbero dunque due. Uno fatto dall'avvocato di Scarabella al giudice di pace e uno fatto direttamente dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle su carta logata ai vigili urbani. Da quanto risulta, la sanzione che Scarabella contesta direttamente risale a giugno, nel tratto della Romea che va da Rosara a Codevigo. L'autovelox l'ha immortalato mentre correva a 110 km all'ora, contro il limite di 90. Scarabella ha contestato il corretto funzionamento dell'autovelox e appellandosi alla legge 241 del 90, in base alla quale il funzionario che accerti un provvedimento palesemente illegittimo può procedere all'annullamento, ha chiesto il verbale che gli venga annullato. Poi, con un'altra lettera, sempre su carta intestata al gruppo regionale, Scarabella ha scritto ai sindaci di Codevigo e Arzel Grande, i due comuni hanno il servizio di polizia locale convenzionato, agli assessori e segretari generali e ai responsabili degli uffici tecnici, chiedendo una montagna di carte. I dati dell'autovelox, le infrazioni registrate negli ultimi 10 anni, il numero di incidenti, i progetti di fattibilità. Il sindaco di Codevigo, Annunzio Bellane, tranquillo, l'autovelox è regolarissimo e Scarabella, come tutti quelli che sono stati multati, dovrebbe pagare la multa. La procedura del nulla osta da parte dell'ANAS è stata impegnativa, dice il sindaco, e per quanto ne so io l'autovelox è in regola e funziona correttamente. E Scarabella su Facebook cosa scrive? Che tutto è fango. La cronaca ci porta a parlare anche di un incidente. Questa mattina non ci sono stati feriti, ma un tamponamento tra tre auto in corsia di sorpasso lungo l'A4 tra Adolo e Padova in direzione di Milano ha creato davvero forti rallentamenti con code che hanno raggiunto anche i 7 chilometri. Tutto è condotto verso le 9 di questa mattina. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che ha liberato la careggiata dalle tre auto rimaste coinvolte nell'incidente con il carroattrezzi. Ci sono poi stati accertamenti per stabilire la dinamica del tamponamento, fatto sta che fortunatamente non ci sono stati feriti, anche se le conseguenze sono state evidentemente proprio per il traffico con 7 chilometri di coda. Torniamo a Rovigo, parliamo del teatro, il teatro sociale paralizzato decisamente dalla burocrazia e lo ribadisce lo stesso assessore alla cultura che tra l'altro è l'assessore che deve gestire lo stesso teatro. Ribadisce non possiamo gestire una struttura come questa perché il comune essendo un ente deve fare corsi su concorsi e quindi ci sono davvero molte difficoltà, tanto che salta addirittura un importante evento. Ma sentite il servizio. La burocrazia di Palazzo Nodari fa sfumare l'esibizione di Louis Bakalov premio Oscar al teatro sociale. È deluso e amareggiato per tutto ciò l'assessore alla cultura Andrea Donzelli che già pensava di far partire con il botto la stagione teatrale di quest'anno con un pezzo da 90 come il famoso compositore che vinse l'ambita statuetta per la colonna sonora del film Il Postino e che firma le musiche degli film di Quentin Tarantino. E invece no, tra carte scartofie, Rovigo perde l'ennesima occasione. Bakalov, racconta Donzelli, aveva accettato di venire al sociale a un prezzo stracciato, 7 mila euro. Per cui l'unica data disponibile era il 15 ottobre e invece abbiamo dovuto dirgli di no perché si è messa di traverso la burocrazia e quel giorno non sarà possibile aprire il teatro. Perché le gare per il personale tecnico non sono ancora state completate, ribadisce l'assessore. Una storia che lascia a bocca aperta, senza parole dunque Donzelli, che si scaglia contro la gestione del sociale. Questa vicenda conferma che le cose non vanno assolutamente. Stiamo perdendo occasioni golose come questa di Bakalov solo perché il teatro viene gestito, raro caso in Italia, direttamente dal comune che deve sottostare a tempi che non si conciliano con quelli dello spettacolo. La burocrazia è assurda e fa inceppare tutto il meccanismo. Per qualsiasi cosa bisogna fare un bando e come è noto i tempi tecnici sono rigorosi. Si tratta di aspetti che un soggetto esterno potrebbe gestire in modo completamente diverso, più snello. Le cose potrebbero anche peggiorare, visto che il nuovo codice degli appalti, secondo il nostro ufficio, fa sapere ancora l'assessore, obbliga il teatro addirittura a fare un bando per coro e orchestra. Sapete che cosa vuol dire? Che ingaggeremo gli artisti non perché sono competenti, ma perché sono più economici. Cosa si può fare? Donzelli ha un'idea chiara. Il sociale non deve essere più gestito dal comune, ma da una fondazione, come succede quasi ovunque. E noi la fondazione ce l'abbiamo, Rovigo Cultura, ha concluso l'assessore. C'è stato un altro incidente questa oggi, una bicicletta investita da un'auto, anzi due incidenti e un veicolo finito fuori strada da solo. Il bilancio appunto di questi incidenti che sono verificati questa mattina sulle strade della provincia di Padova. Il primo nel piovese a Corezzola alle 7.55 in via Castello, dove una persona in sera alla bicicletta si è scontrata con un'auto. Il ciclista si è procurato delle ferite fortunatamente non gravi. Sul posto è intervenuta la polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco per fare piena chiarezza. L'altro incidente invece è accaduto nell'alta Padovana a Piazzola sul Brenta. Erano le 6.22 per l'esattezza. Tutto è accaduto all'incrocio tra le vie Fiume e Corsica. In questo caso c'è un'auto che fu riuscita autonomamente di strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cittadella per i rilievi. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per il conducente. Adesso ci sono i colleghi dell'Emeteo che ci raccontano come sarà dunque il tempo per le prossime ore e soprattutto per domani. Sentiamo. Previsioni per mercoledì 28 settembre. Ancora temporali sulla Sicilia orientale e sul Regino altrove domina il bel tempo. Ecco il dettaglio preparato da ilmeteo.it. Al nord cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo per una maggiore presenza di nubi sull'arco alpino ma senza conseguenze. Spostiamoci al centro. Sarà qui una bellissima giornata di sole con il cielo che sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Raggiungiamo infine le nostre regioni meridionali. Al sud ancora temporali pomeridiani su Catanese, Siracusano, Ragusano e anche sul Regino Ionico. Altrove il sole sarà prevalente. Come saranno invece i venti? Saranno deboli e da direzioni variabili. Concludiamo con le temperature previste per questa giornata del 28 settembre. Minime che non subiscono grosse variazioni e i valori saranno dunque compresi tra 8 e 21 gradi. Durante il giorno prevediamo 23-29 gradi al nord, 19-26 gradi al centro e fino a 26-27 gradi al sud. Ilmeteo.it vi invita a mettere mi piace sulla nostra pagina ufficiale di Facebook così da essere sempre aggiornati sulle nostre news. Arrivederci! Grazie ai colleghi del meteo. Ci faremo qui con l'edizione di Padova e di Rovigo del telegiornale di Prima Free. Vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Rimanete con noi. Vi ricordo che potete seguirci anche attraverso appunto la nostra pagina YouTube. La trovate anche su Media24. Continuate a seguirci. Iscrivete anche attraverso i nostri social network e poi Facebook appunto nella nostra pagina di Prima Free. Grazie e ci ristituiamo alla prossima edizione. Buon proseguimento con i programmi della nostra rete e a risentirci! Grazie a tutti.